Le indagini proseguono a tutto campo, ma secondo la polizia il movente del delitto è economico. Civardi, Grassi e Manesco si conoscevano per la passione in comune per la Tailandia, dove il professore aveva lavorato per anni e dove i due giovani volevano aprire un'attività. Diciamo che tutte le piste in questo momento possono essere percorse. Sicuramente il movimento economico in questo momento ci appare quello più probabile. Manesco era un professore che aveva pochi amici, che non aveva parenti, che spesso stava in viaggio all'estero e la cui assenza probabilmente non sarebbe stata notata da nessuno. In più abbiamo visto che erano state fatte una sorta di truffa per cui questi soggetti, ancora dobbiamo capire come, ma avevano le sue carte di credito per cui potevano ricevere il denaro nonostante lui non ci fosse. L'ipotesi del terzo uomo prospettata da Civardi appare fantasiosa, ma non è escluso che un piano così progettato in maniera così importante, anche in maniera così dettagliata, possa essere stato realizzato anche con l'ausilio di altre persone. Anche da questo punto di vista chiaramente ci sono degli accertamenti in corso che non saranno brevi. Altri due cadaveri erano stati trovati nelle stesse condizioni nel Piacentino ed intorni. Gli inquirenti proseguono le indagini. I due ragazzi ieri hanno scelto di non rispondere alle domande del G. Pelena Stoppini. In precedenza entrambi avevano dichiarato di non aver ucciso il professore. Le indagini da oggi proseguiranno coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano.